Sì, sono tornato molto volentieri, me lo aspettavo da un po' d'anni, mi aspettavo di tornare. Rappresenta un crocivo importante perché a 26 anni uno pensa di aver raggiunto una certa maturità. So di arrivare a una squadra forte e competitiva, quindi mi metterò a completa disposizione del mister. Sono venuto veramente con la massima umiltà, in punta di piedi e so cosa vuol dire mettere la maglia Maranto, quindi da parte di me sarà sempre più del 100%. No, quello assolutamente, ma infatti bene perché vuol dire che la squadra è stata costruita bene e forte. Ma io ho detto che mi adatto un po' a più soluzioni di gioco, posso fare la mezzala, posso fare l'esterno. Quindi poi dipenderà sempre dal mister, ma veramente c'è la massima disponibilità da parte mia. Ma veramente è nata in tempi brevissimi, c'è stata una chiamata due sere fa, c'era da parte mia la volontà di tornare. Non abbiamo parlato né di soldi né niente, perché ho detto guarda, mi ha chiamato l'Arezzo, torno l'Arezzo, torno. Poi da Lucca io volevo proprio tornare via e poi ha chiamato l'Arezzo. Poi da Lucca io volevo.